Per questi tre giorni che speriamo saranno ricchi e intensi, abbiamo lavorato a un programma ancora più ricco, impegnativo, legato ai grandi temi dell'attualità, ma anche con uno sguardo a cose più leggere e di, se possibile, divertimento. Il programma lo conoscete, lo avete visto, speriamo che siano tre giorni intensi e che tutto fili liscio per tutti quanti. Io allora vi ringrazio e do la parola al sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani. Grazie. Grazie direttore. Intanto il sindaco di Ferrara si scusa per il ritardo, però una volta tanto la ragione è nobile, cioè quella di parlare con un gruppo nutrito di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro nel nostro petrochimico, quindi quando noi parliamo, spesso sentiamo sul telegiornale dibattiti sulla esistenza o non esistenza di una crisi industriale nel nostro paese, io stamattina ho, diciamo così, ricevuto qualche decina di lavoratori che non sanno cosa raccontare per i prossimi mesi alle loro famiglie perché il loro posto di lavoro è in crisi. Quindi mi scuso del ritardo. Poi volevo dire una cosa, io ovviamente sono molto lieto che Internazionale ritenga e si senta ospite a Ferrara, ma ritengo che siate più e vorrei che foste qualche cosa di più di ospiti. Io vorrei che Internazionale si sentisse a Ferrara un po' come a casa propria. È un po' una sensazione che ho avuto, una chiacchierata amichevole che ho fatto col direttore qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai. A me piacerebbe che Ferrara diventasse in qualche modo la casa di questo ambiente, che è un ambiente fatto di relazioni di persone, ambiente fatto di professionalità giornalistica, che è fatto di aiuti che vengono da MSF, che vengono da Unipolis, che vengono da tante collaborazioni che ci sono e che ringrazio tutti, ma che è fatto anche del clima che si crea attorno a un evento e che è un clima di rapporti fra le persone. A me piacerebbe che questo evento e mi piacerebbe che Internazionale condividesse con me il senso di una casa comune rispetto a un luogo nel quale si può ascoltare, si può intervenire, si può ascoltare che cosa avviene nel mondo, si può parlare assieme in maniera libera, trasparente, sentendo le opinioni dei più grandi autori dei giornali della stampa e non della stampa, insomma del giornalismo internazionale, su tutti i grandi eventi che qualificano il nostro globo, la nostra terra, le relazioni che ormai ci riguardano completamente, dal compleanno della Repubblica Cinese all'anniversario di Gandhi, a tutto quello che in ogni momento avviene nel mondo di positivo e anche di assai poco positivo e che questo diventasse anche un luogo nel quale soprattutto ai giovani è data l'opportunità di uno scambio, di un'apertura. Vedete, Ferrara era la città del silenzio, i ferraresi più presenti me ne possono dare atto, era in qualche modo così definita da una parte della letteratura, ormai a Ferrara penso che di silenzio ce ne sia poco e questo produce qualche problema, ma io penso che invece là dove c'è davvero la libertà di potersi esprimere, di ascoltare, di crescere e di vedere il mondo come un sistema di relazioni aperte nelle quali è possibile il confronto, penso che sia un'occasione di grande crescita, non solo di sprovincializzazione, io non so se Ferrara abbia bisogno di essere sprovincializzata, non lo ritengo, ritengo che Ferrara sia una città di questo mondo, di questa terra, con i suoi limiti e i suoi difetti come tutti, che ha una fortuna, quella di poter avere non un ospite, ma di avere qualcuno che abita in questa città, anche se solo per qualche giorno durante l'anno, che ci porta ad un contatto diretto col mondo, che è una grande fortuna che poche città possono avere. Questo è il motivo per cui io ringrazio l'internazionale di questo evento e assicuro che per quanto ci riguarda vorremmo che questo evento ovviamente durasse nel tempo. Bene, grazie, noi prendiamo questo come un impegno e una promessa e ne siamo molto contenti. Grazie Sindaco. Walter Dondi, consigliere delegato di Unipolis. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti del Presidente Stefanini che per ragioni di impegno fuori regione non ha potuto oggi essere qui con noi, ma vi saluto a tutti. Lui comunque sarà a Ferrara domenica mattina per partecipare a un dibattito sulla crisi economica. Un anno fa, quando si è aperto la seconda edizione di Internazionale, ed era la prima volta che il gruppo Unipolis e la fondazione Unipolis sostenevano il festival, ed internazionale eravamo proprio nel pieno dell'esplosione degli effetti dirompenti di questa crisi. Oggi, a un anno di distanza, credo che ne possiamo misurare tutta quanta la dimensione e la gravità a livello mondiale e anche nel nostro Paese. E' una delle ragioni della discussione, del confronto, che ci saranno anche in questa occasione, è stato fatto l'anno scorso, verrà ripetuta quest'anno, è proprio gli effetti della crisi. In più, credo che quella crisi, che è una crisi non soltanto economica, ma che ha dimensioni sociali e civili molto rilevanti, e che sentiremo negli anni a venire, ha effetti rilevanti anche sulle situazioni di difficoltà e di crisi che si registrano in tante parti del mondo. Come del resto, ci potranno dire gli amici di Medici Senza Frontiere, che sono appunto sul fronte di tante di queste crisi. E credo che l'occasione offerta dal Festival Internazionale Ferrari sia proprio quella di aprire una grande finestra sul mondo con i protagonisti, per cercare di capire di più e meglio cosa succede oltre alle frontiere del nostro Paese. Questo è un altro elemento di straordinaria importanza. Noi siamo in un Paese nel quale troppo spesso ci guardiamo in casa e siamo presi da mille beghe che non affrontano i problemi reali del mondo. E quindi credo che sia estremamente importante un'occasione come questa per avere confronti, discussioni serie, approfondite, libere, su quelle che sono i più seri, i drammatici problemi del nostro tempo. Da questo punto di vista credo che vada ringraziata Internazionale, la città di Ferrara e tutti coloro che ormai da tre anni, questa è la terza, ci offrono questa grande opportunità. E voglio dire una cosa, ho finito, noi siamo molto soddisfatti, contenti, felici e anche un po' orgogliosi di contribuire alla realizzazione di questa manifestazione. Ho detto in più di un'occasione, lo ripeto anche qui oggi, noi non ci sentiamo sponsor, ci sentiamo dei partner, perché condividiamo pienamente il progetto che sta alla base di questa iniziativa. Ed è per questo che siamo qui oggi e vogliamo continuare a sostenere questa importante iniziativa, perché siamo convinti che possa dare ulteriore testimonianza di un impegno a favore dell'integrazione, della conoscenza, che è la base poi del percorso di integrazione e anche un'occasione di discussione libera. Lo dico in un momento in cui, come è noto, i problemi dell'informazione nel nostro Paese come nel mondo sono sottoposti a tensioni non indifferenti e credo che questa sia un'ulteriore testimonianza dell'importanza di un incontro come questo proprio per affermare il valore di un'informazione libera e indipendente. Grazie a Walter Dondi, consigliere delegato di Unipolis, Costas Moskoskoritis, direttore generale di Medici Senza Frontiere. Quest'anno poi è un anno importante per MSF. Sì, la collaborazione. Buongiorno a tutti. La collaborazione con l'internazionale corre proprio all'anniversario dei dieci anni da quando MSF ha preso il Nobel per la pace il 99. E per noi è un anno molto speciale. Ma cominciando dall'inizio, Medici Senza Frontiere è un'organizzazione umanitaria di azione medica che è nata nel 1971 a Parigi da un gruppo di medici ma anche di giornalisti. oggi siamo presenti a quasi 63 paesi nel mondo prevalentemente lavorando nell'ambito delle emergenze sia conflitti, violenze, epidemie ma anche catastrofi naturali e a questi momenti i nostri operatori stanno arrivando o hanno già cominciato a offrire il soccorso alle popolazioni incolpite in Indonesia a Sumatra dal terremoto o dallo tsunami a Samoa e o dal ciclone nelle Filippine a Manila. Però accanto all'azione medica di MSF un'azione basata sui principi dell'indipendenza neutralità e imparzialità c'è l'azione di testimonianza non è per caso che MSF è nata da medici ma anche da giornalisti perché per noi questo pilastro di testimonianza è fondamentale per la nostra azione uno per spiegare informare sulle sofferenze delle popolazioni che noi assistiamo ma anche dall'altra parte la testimonianza per noi è uno strumento per arrivare dove e quando non possiamo arrivare e denunciare le violenze che subiscono le popolazioni che noi cerchiamo di assistere o il mancato accesso a queste popolazioni e proprio in questo ambito rientra la nostra collaborazione con l'internazionale l'internazionale ha già aderito alla nostra campagna adotta una crisi dimenticata una campagna che gode del patrocinio della federazione nazionale stampa italiana e cerca di promuovere queste crisi dimenticate dai media e non solo come uno strumento per aiutare a risolvere queste crisi ma anche perché fra internazionale e MSF c'è una forte sintonia e specialmente con il festival internazionale qui a Ferrara c'è una sintonia di temi e di maniera di affrontare questi temi perché per noi l'azione umanitaria deve essere discussa è confrontata nella sua piena anche contraddizione tante volte lontana da ogni retorica buonista che dobbiamo dare a questa azione la sua vera dimensione una dimensione che non può portare una soluzione finale al problema ma corre solo all'inizio del problema e cerca di alleviare le sofferenze della popolazione senza cercare di risolvere le ragioni di queste sofferenze di nuovo ringraziamo l'internazionale per questa collaborazione anche noi quest'anno siamo felici di essere partner di questo festival e dalla parte nostra vi invitiamo nei momenti che MSF è coinvolta di più di questo festival oggi alle 10.30 c'è la mostra fotografica mondial limite di Francesco Gigola domani c'è la discussione molto interessante su se l'umanitarismo è morto con David Riff Linda Pollman e anche la presentazione del nostro libro mondial limite e del film Invisibles un film dove cinque registri hanno partecipato fra cui anche Wim Wenders grazie grazie a voi alle 15.30 Zizzola volevo solo dire che il fatto che siano presenti tante autorità e che ringrazio ovviamente per la loro presenza dal Presidente della Camera di Commercio al Signor Prefetto soprattutto il Comandante dei Carabinieri il Comandante dell'Aeronautica della Guardia di Finanza e anche le autorità civili e vorrei essere il segno che questa città ascolta per intero quello che avviene e che quindi quando parlo della casa in qualche modo aperta è la casa intesa non nel senso dell'amministrazione comunale ma davvero di un sentimento un clima che attraversa tutte quante le componenti della nostra città sia quelle istituzionali rappresentate qua sia quelle anche economiche anche quelle che ascoltano con curiosità e con attenzione quello che avviene in città e questo credo che sia un contributo ulteriore del quale dobbiamo ringraziare internazionale che porta qui occasioni di approfondimento di così grande rilievo grazie sindaco allora direi che idealmente con delle grandi forbici tagliamo il nastro di questa terza edizione di Internazionale Ferrara grazie grazie a tutti 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 eccoci eccoci allora Anna Politkoska scriveva i suoi articoli in Italia il giornale che li pubblicava era internazionale e con i suoi articoli abbiamo fatto più di una copertina come alcuni lettori elettrici ricorderanno penso a la guerra in Cecenia penso agli attentati a Mosca ecc e la conoscevamo insomma avevamo con lei un rapporto stretto era una delle nostre firme c'è questa coincidenza del fatto che Internazionale Ferrara si svolge il primo weekend di ottobre e più o meno in questi giorni ormai qualche anno fa Anna Politkoska veniva uccisa a Mosca credo per queste ragioni ma anche per altre quando era sindaco di Ferrara Gaetano Sateriale che è qui alla mia sinistra ci ha proposto che il primo ha pensato all'idea di fare Internazionale Ferrara ci ha proposto in coincidenza con le giornate della nostra festa di intitolare un premio giornalistico a Anna Politkoska un premio che si è rivolto a giornalisti reporter stranieri che si segnalano per il loro lavoro di inchiesta e di indagine giornalistica in giro per il mondo mi fermerei qui dare la parola a Gaetano Sateriale ed è con grande onore anche a emozione che qui con noi sul palco anche oggi la sorella di Anna Politkoska e alla mia destra Elena Kudimova che consegnerà il premio Gaetano Sì come ricordava Giovanni De Mauro il 7 ottobre 2006 nell'Androne di casa Anna Politkoska è stata uccisa c'è stato un processo come molti di voi sapranno e gli imputati sono andati assolti perché l'impianto accusatorio contro di loro è risultato non sufficientemente consistente la sentenza di quel processo è stata di recente annullata e quindi il processo ricomincerà vi sono state diverse chiavi di lettura di questa dinamica processuale russa quella che prevale e che preoccupa anche di più è una chiave di lettura contraria a quello che a noi verrebbe immediatamente di pensare sono stati assolti perché si preferiva che fossero assolti probabilmente no anche la famiglia mi pare che sostenga una lettura contraria la lettura cioè secondo la quale quel processo è stato costruito in grande fretta perché faceva comodo al potere russo individuare immediatamente dei presunti colpevoli e avere una condanna esemplare per questo motivo probabilmente quella sentenza di assoluzione è stata cancellata e ricomincerà il processo il processo che ricomincerà però ha il difetto di svolgersi sulla base di quegli stessi indizi con cui si è svolto il processo precedente ricordiamo tutti insieme che sul banco degli imputati non c'è nessuno accusato di essere l'assassino ma solo dei complici e che non è ancora stato individuato alcun mandante ecco perché è lecito avere qualche dubbio sul senso della sentenza che cancella il processo e qualche dubbio su come verrà riavviato quel dibattimento il caso di Anna Politkoska è un caso emblematico conosciuto in tutto il mondo non è l'unico caso di assassino di giornalisti in Russia non è purtroppo nemmeno l'unico caso di assassino di giornalisti nel mondo se dovessimo tenere una facile statistica dovremmo dire che l'insofferenza verso la libertà di stampa e la libertà di indagine dei giornalisti nel nostro mondo sta crescendo e sta crescendo anche in aree vicine a noi sto usando un eufemismo in cui pare di poter cogliere appunto il fatto che diciamo il potere politico mal sopporta una delle libertà che noi immaginavamo fosse consolidata da secoli quella appunto della libera espressione da parte della stampa nella ricerca della verità non sempre per fortuna si tratta di assassini ma sappiamo quanto possono pesare le intimidazioni di altra natura come rispondere a tutto ciò in molti modi naturalmente sappiamo che domani si tiene nel nostro paese una manifestazione indetta dal sindacato unitario dei giornalisti proprio sul tema della libertà di stampa noi abbiamo pensato con il direttore di internazionale nella primavera scorsa di dar vita appunto ad un premio per giovani giornalisti che si siano distinti per aver svolto inchieste difficili nel mondo inchieste in cui in qualche modo si mette a repentaglio si mette in discussione si mette in gioco anche quei più elementari diritti di sicurezza delle persone abbiamo pensato che fosse giusto questo premio intitolarlo ad Anna Politkoskaya è un premio che vorremmo fosse assegnato di volta in volta nelle prossime edizioni del Festival Internazionale a Ferrara la giuria la direzione del giornale ha deciso di consegnare il premio Anna Politkoskaya per il 2009 alla giornalista messicana Adela Navarro Beglio che invitiamo a salire sul palco grazie premio. Vincitrice dell'edizione 2009 del premio giornalistico Anna Politcoskaya è la giornalista messicana Adela Navarro Veglio. Adela Navarro Veglio è nata nel 1968 a Tijuana, dal 2006 dirige il settimanale Z, una delle più prestigiose riviste messicane che si occupa regolarmente di criminalità organizzata, narcotraffico e collusione tra politica e cartelli della droga nello stato di Tijuana, alla frontiera fra Messico e Stati Uniti. Navarro Veglio scrive una rubrica settimanale chiamata Sorti Legios e conduce insieme alla sua redazione un accurato lavoro investigativo. Vive sotto scorta per aver ricevuto intimidazioni e in seguito al grave ferimento in un attentato del fondatore della rivista Z, Jesus Blancornelas, in cui ha perso la vita un uomo del servizio di sicurezza. Tijuana, città di frontiera dello Stato di Baja California, è uno dei punti caldi della guerra fra Narcos e governo messicano. Secondo fonti governative statunitensi, ogni anno arrivano negli Stati Uniti carichi di droga per un valore di 14 miliardi di dollari attraverso la frontiera con il Messico. Tijuana è uno dei punti di smercio di questo carico verso gli Stati Uniti, il mercato della droga più grande del mondo. Con il rafforzamento del controllo della frontiera da parte dell'autorità statunitensi, il mercato interno messicano delle città al confine è proliferato e la battaglia dei cartelli del narcotraffico per il controllo del territorio si è inasprita. Nel 2008 in Messico 5.000 persone sono rimaste uccise. A Tijuana ci sono stati più di 700 omicidi. Nel 2009 il Messico è stato dichiarato dalla società della stampa interamericana il paese più pericoloso di tutta l'America Latina per i giornalisti. Dal 1995 nel paese sono stati uccisi più di 100 giornalisti e operatori dell'informazione. La redazione del settimanale Z ha pagato un prezzo molto alto per il suo impegno investigativo. Nel 1988 Hector Felix Miranda con direttore del giornale è stato assassinato mentre andava al lavoro. Nel 1997 Jesus Blancornelas fondatore della rivista è stato assalito e ferito gravemente da un commando armato. La sua guardia del corpo è stata uccisa nell'attentato. Nel 2004 l'editore Francisco Javier Ortiz Franco è stato ucciso dai sicari del narcotraffico. Tutti questi omicidi sono rimasti impuniti. Adela Navarro Beglio nel 2007 ha vinto il premio internazionale per la libertà di stampa del Comitato per la protezione dei giornalisti minacciati e nel 2008 il premio Ortega y Gasset per il giornalismo. Pregherei la signora di consegnare il premio. Grazie. Buongiorno. Buenos días. Grazie. Grazie. Grazie Grazie a tutti gli Itziano Tagliani, alcorso-alcalde Gaetano Satieri, Giovanni Di Mauro, Elena Gudimova. Grazie a tutti, i ragazzi membdi degliinfecti oscari nhamenti di il Festival Internacional di Ferrara, è, penso, un atto in due tempi. Prima, e di suma importanza, una honra póstuma a la periodista rusa che fu asesinata per le balli del crimine in un paese dove i sui secreti lo facono potenti, in una terra dove la presione a la prensa ha dejato a molti morti e ha ocultato più verdure. Il asesinato di Politozkaya permanece impune. Dopo di 4 deteniti, sentenciati e, più tardi, liberati, hace unos giorni la corte rusa determinò reabrire il caso per la sua investigazione e sentenza. Pugniamoci qui, di questo importante foro, per che in questa occasione si encuentre justi, per che i figli della periodista, i ragazzi, i ragazzi e il periodismo internazionale possono ottenere una risposta satisfattoria e vedere che la impunità deja di essere il principale complice di i asesinati di periodisti. In secondo termini, questo riconoscimento lo tomo e lo agradezco come un'appogio incondizionale a quelli che lavoriamo in ZETA e una luce in la oscurità internazionale dell'internazionale di aquellos paesi che, che, debido a complicità, presioni e attacchi directi, amenazano la sicurezza dei periodisti e la libertà di expresione. E mi uno, da qui, a un chiamamento a la soluzione di le investigazioni sui asesinati di 49 periodisti in tutto il mondo, in solo nel 2009, 4 di loro in mio paese, México. A mi generazione, se supone le corresponderà ejercer il periodismo in un contesto di democracia, libertà e justizia. Quienes lo scegaron los medios, il periodismo di investigazione e independiente, come fu in mio caso, don Jesús Blancornelas, sufriron repressioni politiche, dictatoriali, oficiali, per poter fare uso pleno di loro, di loro informi. Transcurrieron por golpes internos, fueron sujetos de persecución por sus ideas politicas, los atacaron por publicar la verdad. Todo en el siglo XX, para asegurar en el nuevo milenio un ambiente más justo para la verdad pública. Innanzitutto, buongiorno. Desidero ringraziare tutte le autorità qui presenti. grazie al sindaco, grazie all'ex sindaco, grazie a Mauro, grazie a tutti e grazie a voi, amici giornalisti. Io, per me, ricevere questo premio a Napolit Koskaya è qualcosa di importantissimo. Innanzitutto perché è un riconoscimento postumo al lavoro di questa grande, grandissima giornalista. E forse per ricordare che questa giornalista è morta per parlare della verità. in un paese in cui nascondere la verità è proprio quello che dà potere a chi comanda. Io credo che tutti quanti dobbiamo ricordare sempre che questi assassinati non devono rimanere impuniti. Oggi, come è stato giustamente ricordato prima, sembra che si apra nuovamente il processo a queste persone che, così pare, sono stati accusati di questo assassino ma che poi sono stati liberati. Che cosa ne sarà? Cosa ne sarà di questa giustizia? Per ora nessuno lo sa. Ma è importante ricordare che i figli di Anna, i giornalisti che lavorano ancora nella nuova caseta debbono contare su questa giustizia affinché questi crimini non rimangano più impuniti. Il secondo motivo che mi spinge ad accettare con orgoglio questo premio è che lo riconosciamo noi del giornale Seta come un grande sostegno internazionale. Ci sono molti paesi in cui la complicità dei governi è proprio la più grave minaccia alla quale noi dobbiamo far fronte. Quindi mi unisco, unisco questo appello anche a tutti gli assassinati che sono rimasti impuniti dal 2009, quattro nel mio paese, in Messico. Io faccio parte di una nuova generazione di giornalisti, una generazione che dovrebbe vivere e dovrebbe poter parlare nel massimo del rispetto della libertà e della giustizia. Purtroppo però sappiamo che molto spesso non è così. Purtroppo molti dei miei colleghi debbano sottostare a repressioni politiche terribili per avere soltanto la volontà di informare, informare la popolazione di ciò che accade e questo è quello che nel ventunesimo secolo non possiamo più accettare. Aplaudiamo. Aplaudiamo. Le un parro. 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 En una epoca donde la defensa de los derechos humanos, los derechos humanitarios, la transparencia, el derecho a la informazione e la justicia deben estar asegurados, en el mondo continúan asesinando periodistas. Este mismo año, dos periodistas más de la Novaya Gazzetta, periódico que fue casa de Ana Politoscaya, fueron asesinadas. sus casos como el que hoy nos ocupa continúan sin solución en la impunidad. Este es un periodo en el que los derechos humanos, los derechos de la información, la justicia, la libertad deberían ser garantidos en el mundo entero, pero, por lo menos, los giornalistas continúan a morir. Ancora este año, dos giornalistas de la Novaya Gazzetta fueron asesinados, dos giornalistas que hicieron parte de la casa de Ana Politoscaya y estos crimines son ancora impunidos. En mi periodico, el Semanario Zeta de Tijuana hemos transcurrido por dolorosos hechos, la ejecución de tres compañeros y el atentado en 1997 de don Jesús Blancornelas. Y paralelo a exigir la solución de esos casos, todos sin resolver, todos en la impunidad, continuamos ejerciendo un periodismo libre, con una investigación de los hechos, utilizando las herramientas periodísticas que nuestra rica carrera nos provee. no queremos asumirnos como mártires del periodismo, lo hacemos porque es nuestro derecho, porque es nuestra pasión y compromiso, porque una sociedad que se diga libre debe tener un periodismo en iguales circunstancias. Nel mio giornale Seta anche noi abbiamo sofferto atti molto dolorosi, tre dei nostri compagni sono stati uccisi, un nostro compagno ha subito un attentato nel 1997 molto grave e questi casi tutti sono ancora impuniti. Però noi vogliamo andare avanti, noi vogliamo costruire questo giornalismo libero grazie agli strumenti, ai grandi strumenti, ricchi strumenti che ci offre la nostra carriera. Non vogliamo essere considerati martiri del giornalismo, noi facciamo giornalismo perché ha il nostro diritto, ha la nostra passione ed ha il nostro impegno, perché senza un giornalismo libero non c'è società libera. che lavorano in un ambiente ostile propiciato per un governo inefficiente come lo è il del Presidente Felipe Calderon, che non ha stato capace in tre anni di provare sicurezza ai mexicani e, per esempio, ai periodisti. Nel mio paese non c'è né guerra civile, né guerra religiosa, né guerra ideologica. Nel nostro paese la guerra la sta vincendo il narcotraffico, la sta vincendo il crimine organizzato. Con questi traffici di droga e di morte. Io desidero ringraziare fortemente l'Italia, desidero ringraziare il giornale internazionale a nome di tutti i miei colleghi del giornale Seta, perché noi viviamo in un paese in cui l'inefficienza del governo, in particolare l'inefficienza del governo del Presidente Calderon, è patente, è latente, è evidente. Negli ultimi tre anni il Presidente non è stato in grado di garantire la sicurezza ai cittadini del Messico e tantomeno ai suoi giornalisti. Grazie una volta per questo riconoscimento, per questo supporto che oggi ci dà e che riflessa che non siamo soli, che il periodismo di investigazione deve difendere in tutti i flanci. Grazie per dicerno che ci sono stati importanti come il del Festival Internationale, che appoya a tutti i periodisti in situazioni difficili. E quindi, un'applicazione di in situazioni di alle, inizialmente del crimine di Anna Politozcaya, di le sue progettazioni di mis compañeri Héctor Félix Miranda, Luis Lauro Valero, Francisco Javier Ortiz Franco e il attento di Don Jesús Blancornelas. Credo questo riconoscimento a tutti i loro, per il suo valore, per la sua scuola, per la sua valentia e la sua entrega. anche ai miei compagni in SETA e ai nostri lettori in mexico. Grazie, grazie. Desidero ancora una volta ringraziarvi per avermi concesso questo premio, per averci concesso questo sostegno che ci dà il mondo intero. Il fatto che il periodismo e il giornalismo, questo tipo di giornalismo di ricerca debba continuare, si vede oggi qui, è evidente oggi grazie a voi. Il fatto che un premio importante come questo mi venga assegnato oggi mi indica proprio che siamo sostenuti, non siamo soli, il nostro tipo di giornalismo deve continuare. E da qui vorrei lanciare un appello affinché si risolva il caso dei 49 giornalisti assassinati quest'anno, in particolar modo quello di Anna Politoskaya e quello dei miei compagni, Hector Felix Miranda, Luis Lauro Valero, Francisco Javier Ortiz Franco e dell'attentato che ha vissuto Jesús Blanco Ornelas. Dedico il mio premio a tutti loro, per il loro coraggio, per la scuola, per ciò che ci hanno insegnato, per la loro forza e per il loro impegno. Vorrei anche dedicare questo premio ai miei colleghi del giornale Seta e soprattutto ai nostri lettori messicani. Grazie a tutti. Darei il microfono alla signora Cudimola. I will speak in English. Ladies and gentlemen, dear friends, I was very happy to know that Internationale magazine established an international prize in investigative journalism dedicated to the memory of my sister and to her commitment in journalism. In almost three years since her murder, people in various countries commemorated Anna's name in many different ways. Publishing her books and articles, naming squares and streets after her, making films about her work and life, planting trees in her owner and establishing awards, but not in investigative journalism until now. Though Anna's strong point was exactly investigative journalism. In 2006, she was invited even to give seminars on investigative journalism at Cass Business School in London. One of her first awards was for Courage in Journalism Award for covering Second Chechen War in 2002. and in her acceptance speech in New York, she told that it is customary to believe that journalists go to places where wars and catastrophes break out because people in the world want to know the truth and the news about these events. but not in Russia. People don't want to hear about the crimes committed by the military, about suffering of the civilians and about thousands of victims on both sides. I should stop. Signore e signori, cari amici, sono stata molto lieta di apprendere che la rivista internazionale abbia istituito un premio internazionale sul giornalismo investigativo dedicato alla memoria di mia sorella Anna e al suo grande impegno. In quasi tre anni dal suo omicidio, in vari paesi è stato commemorato il nome di Anna in molti modi diversi, per esempio pubblicando i suoi libri, i suoi articoli, intitolandole delle vie o delle piazze, realizzando dei film sulla sua opera, sulla sua vita, anche piantando degli alberi in suo onore oppure istituendo dei premi. Tuttavia finora non era stato istituito un premio sul giornalismo investigativo, anche se ovviamente la caratteristica principale di Anna era proprio il giornalismo investigativo. Nel 2006 è stata invitata a tenere seminari per giornalisti sul giornalismo investigativo alla Cass Business School della Università di Londra. Uno dei primi premi, dei primi riconoscimenti che le sono stati concessi è stato per il coraggio nel giornalismo, per aver trattato la seconda guerra a Cecena nel 2002. Nel discorso di premiazione a New York ha affermato che si suole ritenere che i giornalisti si recchino laddove scoppiano guerre o catastrofi perché la gente ed il mondo vuole sapere la verità, vuole sapere le notizie su questi eventi, ma non in Russia. La gente non vuole sentire parlare dei crimini commessi dall'esercito, delle sofferenze della popolazione civile, delle migliaia di vittime da tutte le parti. She asked why to do it, why to look for the information if people don't want that. The answer is simple. It is a duty of a journalist. She then compared a journalist to a doctor who operates on the public opinion. A journalist gives people the truthful information, much against their will, to make them think. She thought that receiving a correct and true information about events in your own country or from abroad is vital for every community, big or small, just to understand its place in the world. Quite often this information is hidden or buried in order to make people to believe in somebody's ideas. On the other end, we have propaganda. Anna hated even this world. We lived through the times of the Soviet propaganda. There wasn't even a joke at that time about weather forecast who says that it's a cloudless sky all over Russia but it has been raining all over Western Europe. and we have asked why do we do this if people don't want to hear it? The answer is simple. It's the duty of the journalist. At that point, he had paragonated the journalist to a doctor who operates the public opinion. The journalist who gives people to the people the information that is true even against their own willpower to make it to think. He thought that receiving correct information and true on the event in the country and abroad is of vital importance for every community big or small that it is to understand the role and the role that occupies in the world. Sovereign these information are hidden in the past or in the past to make it to make it to the people and to the idea of the people. D'altro canto abbiamo la propaganda e Anna odiava persino questa parola aveva vissuto attraversato l'epoca della propaganda sovietica all'epoca c'era anche un barzelletta ossia quello che il meteorologo affermava cielo limpido su tutta la Russia ma pioggia continua su tutta l'Europa occidentale. getting the real information was a very difficult thing for Anna nobody wanted to grant it to her mainly because of fear different types of fear I don't know what she taught young journalists at the seminars but I once witnessed her how she instructed a young British journalist who was about to go to Chechnya officially this girl wasn't about wasn't be able to get into Chechnya because journalists even the Russian ones need a special permission to go to so-called zone of counter terrorist operation but that girl was about to enter through the neighboring republic of Ingushetia so Anna was teaching her that you have to disguise as a local woman if you want to say everything with your own eyes it means long skirt a head scarf tied in a special way and shoes she told don't forget shoes they can't give you out something old and worn because locals walk a lot along the roads ottenere le informazioni vere era qualcosa di difficile per Anna perché nessuno voleva fornirgliele principalmente perché aveva paura vari tipi di paura ecco non so che cosa abbia insegnato ai giornalisti ai giornalisti in quel seminario ai giovani giornalisti ma una volta ho visto che ha dato istruzione a una giovane giornalista britannica che stava per partire per la Cecenia e ufficialmente non sarebbe stata in grado di andare in Cecenia perché per entrare serviva un permesso speciale anche ai giornalisti russi per entrare nella cosiddetta zona di operatività antiterroristica tuttavia sarebbe entrata attraverso la repubblica confinante la repubblica d'inguscezia e Anna le ha dato delle istruzioni devi travestirti come una donna del posto se vuoi vedere tutto con i tuoi occhi questo significa gonna lunga un velo sulla testa legato in una maniera particolare e soprattutto non dimenticarti le scarpe ecco queste ti possono tradire un paio di scarpe vecchie e logore perché la gente del posto cammina tanto lungo le strade Anna herself had a special uniforme I would say to go there although she was short sighted and normally wear glasses when she went to Chechnya and wanted to mix with local people she never wore glasses because Chechnya women never wear glasses Anna aveva una uniforme particolare ecco perché anche se era quando si voleva mischiare la popolazione indigena anche se era miope normalmente portava gli occhiali quando andava in Cecenia non li indossava perché le donne in Cecena non portano mai gli occhiali Anna stava per pubblicare una storia sulla pratica della tortura che riteneva essere in uso da parte dei servizi segreti in Cecenia quando è stata assassinata e si è trattato dell'ultimo dei suoi numerosi articoli investigativi nei quali criticava la condotta delle autorità nel Caucaso settentrionale but Anna's legacy is due after 8 years of working in Novea Gazeta there were thousands of cases open in the court tens of people put to jail and I just believe that although she was killed her spirit is with us and I just glad that there are people working in different countries around the world who do the same thing they are looking for truth and right information everywhere for whatever price I mean I'm very glad I'm very glad that this price goes to Adela Navarra Bayo because I used to live in Mexico for four years in 90s and I know that this country also has a lot of problems and but this makes me very happy about you congratulations after 8 years of new gazette have been open many investigations in tribunale and dozens of people have ended in galera and I think that even if Anna was assassinated her spirit remains with us and I am very glad of rivedere che in vari paesi ci siano persone che fanno esattamente quello che faceva lei ricercano la verità l'informazione vera a qualsiasi prezzo e sono molto contenta che questo premio venga conferito ad Adela Navarro Oveio perché io ho vissuto in Messico per quattro anni negli anni 90 e so bene che il Messico è un paese che ha tanti problemi quindi ne sono veramente lieta congratulazioni grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle testimonianze così significative che abbiamo ascoltato voglio ricordare che i lavori di Anna Polikoskaya in Italia sono editi da Adelphi e quindi li potete trovare nelle librerie per questa casa editrice e l'ultima informazione di servizio come si dice è che la città di Ferrara sta pensando di intestare ad Anna Polikoskaya una delle sue strade grazie a tutti arrivederci all'anno prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.